Sono l'amministratore delegato di TIPS World Exchange. Stiamo reclutando amministratori delegati di TIPS e operatori di marketing SNS da 70 paesi in tutto il mondo. Questo è il segreto per arricchirsi più velocemente. Se vuoi candidarti per amministratori delegati da 70 paesi in tutto il mondo, per favore mandami un'email. E se il CEO e i rivenditori di social media come YouTube, Twitter lo inviassero a vzipchiocciolanaver.com Questo è il tuo segreto per arricchirti nel modo più veloce del mondo. TIPS vede un mondo in cui puoi estrarre monete TIPS gratuitamente. Con oltre 500 nuovi membri che si uniscono ogni giorno e la piattaforma in rapida espansione. È un miracolo di rapida crescita. Ogni giorno diffondo il messaggio di Dio che può renderti ricco in tutto il mondo. Il motivo principale per cui diventerai ricco? Per celebrare il lancio di TIPS Exchange. Il tasso di rendimento atteso è del 1000%. L'obiettivo è una moneta. I coreani estraggono gratuitamente da 10 anni. KDA Coin è attualmente collegato alla moneta TIPS del TIPS World Exchange. Che viene estratta gratuitamente in tutto il mondo. Tuttavia, i coreani estraggono monete per 200 dollari al mese. Perché diventi ricco? Questa è una strategia del marchio per offrire monete di diamanti al prezzo più basso per commemorare il lancio di TIPS World Exchange. Suggerimenti strategia di marketing per lo scambio mondiale con un minimo del 1000%. TIPS Exchange si espanderà in modo significativo come Binance. L'utile operativo della commissione di transazione TIPS World Exchange è il valore futuro di TIPS COIN. Il secondo motivo? Conosci le valute mondiali? Il valore di uno moneta è 7200 dollari. Aumenterà del 30.000% arrivando a 150 dollari nel 2025. Dopo il 2026 salirà a 436 dollari. Aumenterà dell'87.000% rispetto ai prezzi attuali. La somma dei caratteri alfanumerici nel nome di questa moneta è 10. La KDIA Coin Foundation ha molte monete mondiali. Pertanto, anche la nostra moneta salirà. Acquista monete KDIA da 1000 dollari. Diventerete entrambi ricchi. Questo è un messaggio divino per te e da parte del Dio in cui credi. Sento la voce di Dio dal cielo e la diffondo in tutto il mondo. Se ti iscrivi e mi ascolti. Puoi diventare ricco senza preoccuparti dei soldi. Terzo motivo? Acquista quanti più diamanti possibile. La tua ricchezza aumenterà di 100 volte. Attualmente sono un esperto finanziario. Amministratore delegato di una piattaforma di puntate e amministratore delegato della TIP Coin Foundation. E sono l'amministratore delegato della società quotata KDIA Coin. Il cambio monete KDIA e Digifinex. Dalla quotazione, è aumentato dell'1.200.000% da un centesimo a 80 dollari ed è attualmente al minimo di 0,0001 dollari. Presto scompariranno 80 milioni di monete. Cerca un volume elevato al prezzo più basso. L'alto volume nelle classifiche non può essere ingannato. Cosa succederebbe se guardassimo oltre i prezzi elevati nell'analisi tecnica. Da 100 dollari a 80 milioni di dollari. Sei un eroe miracoloso. Sogno di un miracolo. La piattaforma TIPS KDIA Coin ha già acquistato e recuperato il 99% della fornitura circolante dalla fondazione. Il volume degli scambi non recuperati è solo l'1% del volume totale degli scambi. La fondazione ha acquistato il 99% della fornitura circolante e ti offre l'opportunità di arricchirti. 0,0001 dollari è il prezzo più basso che non può scendere ulteriormente. Acquista KDIA Coin al prezzo più basso sull'exchange Digifinex. Il quarto motivo? Innanzitutto, considera KDIA Coin. Che rappresenta solo l'1% della circolazione. Come il prezzo più basso e sogna di diventare ricco in futuro. Ti insegneremo come tenere molte monete. Puoi avere molte monete TIPS acquistando una certa quantità di monete KDIA a un prezzo molto basso e scambiandole con monete TIPS. La piattaforma TIPS è stata creata per costruire una rete globale di social media per aiutare tutti i poveri del sud-est asiatico che soffrono la fame e non possono permettersi nemmeno un dollaro al giorno per mangiare. Quando è stata creata internet, gli operatori delle piattaforme sfruttavano il tuo lavoro e non ti pagavano. È arrivato il mondo della piattaforma Web3 che restituisce i profitti ai contributori della piattaforma TIPSW e B3. COM persegue l'etica aziendale di crescere insieme a tutti i partecipanti in tutto il mondo che hanno aiutato l'azienda a crescere e distribuisce naturalmente una parte di tutti i profitti. Generati memmano che l'azienda cresce ai vari partecipanti. Il quinto motivo? Conosci il valore futuro della tua piattaforma? Il valore futuro dei 200 milioni di abbonati Twitter acquisiti da Elon Musk è di 2.500 dollari per azione. Estrai monete TIPS ogni settimana sulla piattaforma TIPS. Se TIPS scalasse come Twitter, il valore di una moneta TIPS giornaliera gratuita sarebbe di 2.500 dollari. Inoltre, se TIPS cresce come Twitter, ottieni entrate pubblicitarie ogni giorno e questi sono i tuoi soldi. Se non disponi di Bitcoin, emetti subito la tua valuta su TIPSWEB3.com. La persona che lo ha creato è un coreano di nome Cha Guan Seong. L'amore può cambiare il mondo. Ha creato l'unico modo per sfuggire alle catene della povertà. Quali sono le ultime notizie su Bitcoin oggi? La mia situazione sul mercato Bitcoin sarebbe esattamente giusta. L'ho comprato nel 2023 per 14.500 dollari e da allora l'ho tenuto. Bitcoin è rialzista. Questa è la 67esima analisi Bitcoin di oggi. La mia previsione di un aumento da 61.000 a 67.000 dollari non è mai stata sbagliata. Raggiungerà i 70.000 dollari tra pochi giorni, il 20 luglio. E la mia previsione è che salirà a 69.777 dollari e poi scenderà esattamente. Oggi, 3 agosto, sarà di 63.400 dollari. Mentre oggi e domani scenderà esattamente a 48.300 dollari. La mia previsione era corretta. Il mercato ribassista non è ancora finito. Tipsweb3.com applica regole giuste e giuste a tutti in tutto il mondo. Fornisce pari opportunità sia ai ricchi che ai poveri. Ora puoi diventare ricco nel mondo blockchain. Diventa ricco dall'oggi al domani.